Dove si fanno le lattine della Coca-Cola personalizzate? Seguitemi! Eccolo qua dov'è! Questa è quella dietro alla Spagna Come vedete non è dietro alla Spagna ma a fianco della Spagna Per chi invece vuole arrivare dalla Coca-Cola da dietro Ecco qui dov'è! Poi grazie! Volevo riprendere come funziona, perciò si fa start Si, guarda, start Qui inserisci il tuo nome Hashtag? Mi Expo Coke Quella è grande La Ciga Perfetto Ieri eravamo alla Coca-Cola come visita ufficiale Ah, piaciuto? Si, molto Infatti ce l'hanno regalata però con il nome del gruppo Io voglio anche il mio Giustamente Giustamente ho già fatto la corsa Sono qui solo per quello, poi torno a... No Allora, basta Youtube Nooo Non si può applicare un brand? Ah, ok, ok O Youtuber Youtube si può E poi non è... No E allora facciamo... Eh? Si, si, un grande Io ci vedo male No, aspetta Aspetta C Tube Staccato Maiuscolo G O N I Perfetto Ok, esce così Perfetto Stupendo Va bene Ok Ok Questo ci sarà fino alla fine di Expo oppure quando sono finite le... Assolutamente sì, fino al 31 ottobre Perfetto Fino al 31 ottobre Perciò... Perciò tornate a trovarci Eh... Io no, ma ne ne mando un sacco Scommetto che verranno sempre di persone a... Quando lo vedono su... Cioè se... Uscendo da poco folla Ecco... Youtube Gianni Perfetto Come... Pag. 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 Grazie a tutti